Allora, mi è piaciuto tanto, e questo è il mio secondo live, il senso di famiglia che si respira quando si è qua. Si lavora tanto, perché è Patrizia veramente, una che ti fa lavorare tanto, perché comunque so, dato che la conosco da tanti anni, ho fatto tanti lavori con lei, che vuole comunque sempre cercare di ottenere il meglio da quello che fa. Mi porto sicuramente a casa un altro bel ricordo da questo live, sicuramente sì. Sicuramente ho lavorato su alcuni rapporti che erano piuttosto importanti per me, quindi adesso verificherò nei prossimi giorni come sono cambiate le cose, ma già sento che c'è tanta leggerezza in più in queste cose, sento che comunque ho sciolto delle cose importanti. Mi porto a casa un po' di leggerezza in più e sicuramente la consapevolezza di aver fatto ancora un altro passo verso la vita che voglio creare, verso la vita che voglio per me, verso la versione migliore di me. Patrizia, grazie mille, grazie veramente con tutto il cuore, perché sei una persona meravigliosa, ho lavorato con te già in passato e so che ci metti il cuore in quello che fai. Grazie.